L'accerchiamento di Aleppo da parte delle forze di Bashar al-Assad rischia di tagliare i viveri approvvigionamenti a circa 300.000 persone. A lanciare l'allarme sono le Nazioni Unite, che sottolinano l'urgenza di aprire dei corridoi umanitari. Altolà che feca un rapporto del progetto Siege Watch, secondo cui in tutta la Siria sarebbero ormai già un milione le persone che vivono in stato d'assedio. Appoggiato dagli esbollali banesi e dai raid russi, l'esercito di Damasco ha da una settimana intensificato le operazioni intorno ad Aleppo e così contribuito anche al naufragio dei negoziati di pace di Ginevra. In occasione di un incontro con il ministro degli esteri egiziano, il segretario di Stato americano John Kerry è tornato da Washington a strigliare Mosca. Le attività della Russia ad Aleppo e nella regione, ha detto, stanno rendendo molto più difficile il ritorno al tavolo delle trattative. Chiediamo di nuovo a Mosca di unirsi agli sforzi per arrivare a un immediato cessate il fuoco e garantire un libero transito agli aiuti umanitari. Nelle stesse ore in cui un'autobomba rimendicata dall'ISIL provocava diversi morti a Damasco, il ministro degli esteri Lavrov replicava indirettamente a Kerry, sostenendo che la Russia ha proposto agli Stati Uniti uno schema assolutamente concreto per arrivare a una soluzione della crisi siriana.